Ciao a tutti e grazie e benvenuti in questo nuovo video della Lucky Sfida Oggi faremo due cose importanti che non sono mai state viste prima La prima è che appunto andremo a fare una sfida che vi spiegherò comunque dopo E la seconda è che anche oggi abbiamo di nuovi Lucky Block Dei nuovi, vabbè, un nuovo tipo di Lucky Block Qualcuno vorrebbe dire, qual è la cosa strana? Ne abbiamo mostrato in passato? Sì, ma non due volte di seguito Eh già, eh già Ma perché l'ho fatto? Perché me l'avete chiesti in tantissimi Ora, non ho capito bene il motivo La recensità di Eren, non ne ho la minima idea Sta di fatto che mi avete chiesto tutti quanti di portare i Lucky Block 102 E io dicevo che cazzo sono i Lucky Block 102? Eccoli qua, ne abbiamo ben 40 E devo dire che sono anche molto molto potenti Anzio che ci droppano le cose abbastanza OP Cioè, certe ricordi che sono OP veramente? Stop Invisible? Oh, c'è un cosa invisibile che è sponato? Non l'ho mica capito Vabbè, comunque, siccome ci sono molte cose veramente strane e OP Qua viene la seconda specialità di oggi Questo mi dà i cuoricini, però non mi dà rigenerazione Beh, ragazzi Semplicemente Noi non potremo utilizzare una full armor in questo episodio Lo so, è una cosa bruttissima Ma va fatto Va fatto perché se no, per quanto il boss di oggi possa essere potenziato rispetto allo scorso e tutto Comunque potremmo avere dei problemi se no Quindi, sostanzialmente io spero che mi esca una cosa che tipo sia strapotente e tutto Ecco, in questo caso qui non avrei chissà quale scelta Cioè, io potrei scegliere tra tre tipi di corpetti, un paio di pantaloni e delle scarpettine Vediamo un attimo quali sono le differenze Allora, wow Questa qui protegge tantissimo Mi dà strength, saturation, fly Ok, mi dà anche il volo Veramente bella questa armaturina qui Questa invece è lezza, si può anche buttare E questo, oh mio dio Protegge un bordello Anche i pantaloncini qua proteggono Ragazzi, guardate che roba Tengono le scarpettine che fanno abbastanza schifo Il resto protegge tutto tantissimo E queste qui però cosa mi danno? Speed E' figo, speed, è figo Per il momento io mi metto questa qua Vediamo un attimo Allora, abbiamo block breaker Oh, oh cazzo Ok, qualcosa mi dice che questa qui è una pozione da usare contro i nemici, ecco Vediamo l'armatura, ovviamente non me l'ha danneggiata perché è una pozione E ok, sembra forte Cioè, non è che sembra, è forte Poi qua, questi qui in teoria se li mangio mi tippano Oh cavolo, non mi ha tippato Ehm, non capisco allora il significato di questi qua Put di interrogativo number 2 poi Perché? Quale... Che cosa mi sta a significare questa cosa? Intanto si vede anche la prima spada però, eh E' indistruttibile Ultimate Blue Lava Sword Ok, il fatto che sia blu E perché è blu Lava Sword Probabilmente quando ho hitto il nemico fa uscire la lava Tipo, sarebbe una cosa un pochettino strana e macabra Però, tra l'altro, non dice il danno Dice che è indistruttibile Ma non mi dà il danno E questa cosa non mi piace Non mi piace perché non... Non c'è... Oh raga, con quella pozione di prima Ho sterminato tutti i maialini Ma non capisco Oh è un'armatura che ho addosso Non c'è nulla C'è la carne sparsa a giro Ma cos'è successo? No dai, la pozione non può essere andata così lontano E' per forza un'armatura che ho addosso O magari la spada? Sapete che... Non so veramente cosa sia successo qua What? Vabbè, noi continuiamo Non mi faccio domande Forse qualche boss uscirà da qui Non ne ho la minima Se queste qui hanno anche di mob E subito troviamo tre spalle di seguito Quindi andiamole a vedere Allora, la prima fa 973 Fa molto danno Ma è abbastanza contenuta, diciamo Questa 7400 Beh, che dire E' molto molto potente E anche un po' di mele dorate e mele OP Cosa abbastanza interessante Perché si è visto che negli ultimi Lucky Block Che abbiamo affrontato nell'ultimo episodio Appunto, non c'erano mele dorate Né normali, né OP Questa qui, ragazzi La Caramel Sword L'ho già vista L'ho già vista Ma non so dove Ah, nel video di ieri Ma perché qua li chiama 102? Quelli che facevano non erano i raid Una roba simile Ehm, ok Boh, non lo so Vabbè, continuiamo ragazzi Continuiamo Chest vuota Se è vuota è un male Perché vuol dire che Non ha il 100% di compatibilità Con tutte le cose Che abbiamo nel nostro pacchetto lezzissimo E poi qua un'altra Ultimate Ah, ma questa è una pala però Oh, cavolo Uh, uh Ragazzi Non c'è scritto nulla Sugli incantamenti Però su come la metto in mano Vorrete un po' Allora, scava come una pala normale Comunque Col destro Non fa nulla Beh, siamo in una versione abbastanza lezza Ma mi aggiunge tantissima vita Ok, quindi le cose Anche se tipo dice Che sono indistruttibili Ma non dà incantamenti In verità gli incantamenti ce li ha Però, eh Boh, non li dice proprio che sono motivo Anche questa qui Andiamo un attimo a vedere Mi aggiunge vita extra E questa è un'accetta però Ma non ha particolarità strane Cioè anche questa qui Sarà tipo lenta, sì E tipo Però questa qua Boh, non lo so Sono confuso ragazzi Perché Mancano le informazioni Mancano le informazioni sulle armi E questo cos'è? Invisible apple Mi farà diventare invisibile Immagino Vediamo Ok, ho strength 3 per 5 minuti E tantissimo Haste Speed forse Non so Mi ha dato speed Ma poi non sono invisibile Cioè Ah, era la mela invisibile Non la mela dell'invisibilità Ecco Letta così Ha decisamente più senso Ecco Non capisco ragazzi Mi ha aperto 3 a raffica A parte che È vero perché c'ho a easter L'ho aperto a raffica Ma sono uscite delle cose Cioè La porta Perché mi fa uscire questa Da lucky block Perché? Oh cavolo L'ho piazzata accanto Vabbè, non importa No, nulla Quello lì è un punto sfortunato Io me ne vado da lì Perché veramente Mi puzza di sfiga Sono lezili Se no Cioè Sono uscite le schifezze Quindi io le apro qua Che non tanto bellini Ecco Cos'è? Cos'è seriamente? È una tazza Birra E se la bevo? Mi va a ubriacare immagino No, non Non so cosa Ok, mi ha dato jump boost Penso Instant ult Penso che me l'abbia dati lui Sì Figo ragazzi Figo perché si vanno ad aggiungere Anche oggetti stupidi Veramente Che su Minecraft comunque Non ci sono E hanno un utilizzo carino Vediamo L'ultimate OP Green helmet Questo qui come si può vedere Non mi dà tutte le cose Che mi dava questo qua Che poi non è che mi desse Chissà che cosa Cioè mi dava la fly E poi un bordello di protezione Ma questo qui guardate Mi dà La protezione Intorno al corpetto Che io non ho ancora ben capito Cosa cavolo sia Ma è tipo un incantamento figo E mi fa diventare invisibile Sì Questo mi fa diventare anche invisibile Mi dà water breathing Night vision E mi sembra Vabbè Invisibilità e basta Ok È buono Comunque è buono Sì Poi tra l'altro Di questa armatura qui Ok che non ho preso danno Però non so Forse è anche indistruttibile Boh Ma ragazzi Ne abbiamo ancora 11 Vediamo se ci esce Qualcos'altro di buono No un blocco di stone Ma perché Mi fa Guardate cos'è Ma prima mi uscivano Tre spade a raffica Armatura a raffica Ho aperto i primi Era un'armatura a raffica E ora mi fa uscire Un blocco di legna così Ma perché Non ha senso Non ha senso O sono stroppi le cose O fanno decisamente schifo I colori Non li voglio i colori Questo cos'è Un blocco di diamante Ok già questo è Un pochettino più interessante Rispetto al nulla più assoluto Un pesciolino I'm funny No non sei divertente Assolutamente Questo è l'ultimo E l'ultimo Ok era senza nulla Mmm Facciamo un attimo Il punto della situazione Intanto andiamo a casa Devo ammettere che Ho aperto ben pochi Lucky block 40 in effetti Erano pochini Poi un po' erano vuoti Ma vabbè Ci sta anche Perché sono decisamente OP questi lucky block Il mio problema È che non ho capito I danni delle armi Ci sono Ci sono tipo Queste qui indistruttibili Che potrebbero Non fare addirittura Danno Però magari fa Un bordello di danno Cioè non lo so Sono abbastanza confuso Comunque intanto Butto qua le cose Decisamente inutili E guardo un attimo Se effettivamente Ho qualcosa di buono Qua c'ho pozione Jump boost 25 Però mi mette Un meno 125 Di jump speed Ma che vuol dire Cioè mi dà jump boost Ma la jump speed È un'altra cosa Cioè cado Oh mio dio Non salto più No ragazzi Ok ma sono morto What the fuck Sono morto Perché ho colpito Il terreno troppo forte Ma Ma Impossibile come cosa E cavolo Impossibile Non avevo saltato Ero rimasto a terra Come ho fatto a prendere Danno Ragazzi ho preso Danno di caduta Facendo un mezzo gradino Perché Perché Allora Tra tutti i pezzi Di armatura Io ho scelto Questo qua Perché ho scelto Questo Perché mi dà Il volo Ed è l'unico Che mi dà Il volo Mi dà Saturation 2 Quindi in torino Devo portarmi il cibo Non devo stare a mangiare In tre secondi Che me lo sbatti Assurdo Mi dà I cuori extra Che è un'ottima cosa Perché non c'è Nessun'altra cosa Qui che mi dà Cuori extra A parte le armi Che me ne danno un bel po' E poi abbiamo Strength E ovviamente Protegge molto bene Questa qui Protegge un po' di più È vero Però Però Non ho né cuori Né nulla Tutti il resto della natura Come appunto detto Per questa mini challenge Dell'episodio di oggi Andiamo a scartare tutto quanto Ragazzi Fatemi sapere tra l'altro Se vi piace questa idea Perché È un po' lezza Ma forse Forse Si manca a dare un po' Un senso A questi oggetti Che sono decisamente Troppo Troppo Detto chiarito Ragazzi Nell'ultimo episodio Ho usato un cappellino Che mi dava soltanto quello 20 di armatura Però il boss Era così forte Perché faceva così tanto danno Che me l'ha distrutto E quindi Lì sì che poteva diventare Interessante la cosa Riguardo alle spade Sono molto indeciso Sono molto indeciso Quale usare Quindi Boh Non saprei Questa qui Si va a distruggere Nei micostraisi Questa quindi è inutile Questa è inutile E ci sono poi queste altre Che non Non ho ben capito Se siano buone Oppure no Non ne ho la minima idea Veramente Il cibo Si è detto che non ci serve E perfetto Così siamo a posto Ho lasciato anche una pozione Perché effettivamente Quella pozione Sembra buona Quindi Boh Comunque Facciamo spawnare La struttura Prendiamo gli oggetti Oh cazzo Oh cazzo Ok ragazzi Meno male Meno male Che avevo le spade Sparse nell'inventario Come avete visto Mi è sparita una spada Perché mi è sparita una spada Perché Quando ho preso gli oggetti Me l'ha messi in automatico Nei primi due slot Nell'inventario Facendo così Mi è andato a sostituire Proprio L'oggetto che avevo qua E che era la spada Della lava Che io volevo provare E non proveremo mai A questo punto Perché Non possiamo provarla Non ce l'abbiamo più Molto semplicemente Ma ragazzi Prima iniziare Bisogna fare Giustamente Alcuni test Qua ho ben 10 Uova di zombie Sono uova di zombie Normalissime Quindi io vado così E lo attacco Ok Questa spada qui ragazzi Come potete vedere Ha un cazzo di danno What? Proviamo quest'altra ad esempio L'accetta Anche l'accetta ragazzi Non fa nulla E i boss qua Non sono potenziati E noi abbiamo addirittura Strength Ora Questa pozione qui Vorrei provarla contro il boss Effettivamente Ma ragazzi Non lo faremo contro il boss La proveremo così a caso Ecco appunto Perché l'ho tirata così Prima dello scontro Perché quelle pozioni lì Comunque le ritroveremo in futuro E mi sembra più che giusto Vedere il loro funzionamento Se no non le utilizzeremo mai E comunque È meglio non utilizzarle Perché sciottano tutti A un raggio Tipo Assurdo Questa roba L'ultima cosa Che mi rimane a provare Appunto È questa spada qui Che in teoria Dovrebbe fare un bordello di danno E giustamente ragazzi Il danno che Che dici di fare Lo fa Non c'è molto da dire Detto questo quindi In questo momento Ho due spade Che non fanno nulla di danno Ma Mi danno un bordello di vita Perché è già full della vita? No no Ho strane cose addosso Beh meglio così E poi una spada Effettivamente potentissima Io quella potentissima Non la voglio utilizzare Perché ragazzi Il danno che fa È decisamente eccessivo E quindi Non avrebbe nemmeno senso Veramente stare a fare Uno scontro serio Anche se potrebbe darci Del filo da torcere Anche questo boss qui Detto questo In questo modo Come hai visto Cliccando col destro Con lo spawno skeleton E poi tirandole addosso Il secchiello Diventa particolare La situazione Diciamo che comincia A sfumacchiare ovunque Si vede la visuale Che si agita un pochettino E così dovrebbe sponare il boss Io Voglio provarci ragazzi Voglio provare ad affrontarlo Con la citta Non con la pala Perché ragazzi La pala La pala non fa danno La citta perlomeno Dovrebbe fare qualcosa Tipo 4 o 5 di danno Penso Sicuramente un po' lo fa Perché lo zombie comunque Ha 20 di vita Oh mio dio E l'abbiamo fatto un po' male Lui comunque ragazzi Non mi fa malissimo Però mi consuma l'armatura Ah io mi ho fatto male Mi sono mangiato una mela Ok Ho visto già la vita Che cominciava ad abbassarsi E non mi piaceva Comunque si Per chi ci avesse fatto caso Stiamo affrontando Il boss Dinnerbone Che appunto Fa sponare tutte le cose Al contrario Perché appunto ragazzi Si date una name tag A qualsiasi mob di minecraft E la chiamate dinnerbone Il mob viene rigirato Ed è una lezzata così Io tra l'altro Spero mi duri molto L'effetto della melopi Perché se no È un casino Si però Fa un casino No la vita che cala No no Perché sta calando la vita L'effetto della melopi Se n'è andato Ok mi mangio una mela Oh cavolo ragazzi È vero Si io non No mi ha levato tutti i cuori Non ci credo Allora facciamo così Che contro questi schifezzini qui Un pochettino la uso questa No è un casino Non ci credo Mi ha levato tutti i cuori Extra che avevo Mannaggia Ho fatto la cazzata Dai Tra l'altro dinnerbone Ah ok eccolo qui Si è presentato anche lui No Mi ha tippato via Dove siamo Uh siamo fuori dalla mappa Perfetto ragazzi Tippandoci così via Ha lasciato indietro Tutti i suoi amichetti Perfetto No 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 Non volare Oh mio dio ragazzi Mi sa che mi fa la mossa Sua speciale Spero di allontanarmi le ossa No no le ossa Devono stare lontani Che casino Che casino E lui dove è finito Eccolo qua Appena vedo che comincio a prendere troppo danno Mi sa che mi calo l'altra mela Il fatto è che tanto i mini zombie Non mi fanno nulla È soltanto dinnerbone Che mi fa un po' di danno Ho visto No ragaglio Ha degli attacchi strani Non li capisco Ok perfetto Mi ha ritippato di nuovo fuori Ma vengono anche loro Da dove sono usciti Non sono Come facevano Non potevano uscire loro dall'arena E lui rivola in aria Oh cazzo Ragazzi bisogna focussarlo Ma vedete Fa un effetto strano Col fumettino nero Non capisco cosa sia Mi sa che mi da Tipo instant wither Non lo so Meno male che siamo con un bordello di cuori Oddio Che poi ormai anche se mi tippa fuori Tanto ci sono Ci sono i suoi amichetti anche fuori Quindi Dai perfetto Ora che nell'acqua ne approfitto E no E no Non lo puoi fare in questo momento Ragazzi Mi sa che ha un po' troppa vita Lui lo poteva uccidere anche con la spada Che faceva mille di danno E non l'avrei shottato E con quella da mille Mi sa E io ci sto provando con Con questa spadina qui E invece no ragazzi Perfetto Ce l'abbiamo fatta Uh Ok Non è stato facilissimo Soprattutto perché ragazzi Vi giuro Non capisco quale sia il motivo Con questa armatura qui Intuora non doveva avere problemi E invece lui Era riuscito a togliermi Un po' di vita Non Non l'ho capita Vi giuro Non l'ho capita Comunque Ora non per dire Ma io qui ne ho altri 15 Non ne voglio assolutamente Sconfiggere altri 15 Ecco eh Però giusto un altro Così Giusto per il gusto di shottarlo Con la spada che fa 13 miliardi di miliardi Di miliardi di danni Ma in verità questa qui In confronto alle altre Non fa nemmeno poi così Tanto danno E qui solo dice lunga Però dai lo voglio shottare Chissà se poi lo posso shottare pure ora Oh aio aio Mi da wither No 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 Sto lontano che è meglio Perfetto Eccolo qua Guardatelo qui Come dice Eh tu vuoi uccidermi Penso di battermi Sì ok Con questa spada qui Era abbastanza palese Che l'avrei shottato con un colpo Ma ripeto Già con quella da mille di danno Un po' di colpi Non dico tantissime Però un po' di colpi Sarebbero serviti Detto questo ragazzi Spero che questo video Lezzissimo vi sia piaciuto Fatemi sapere Se vi interessa vedere Altre challenge simili Magari Potremmo veramente Inventarci qualcosa di figo In questa lucky sfida Lezzissima Comunque Ciao a tutti Ciao a tutti